L'incontro avuto ieri con H. Sicilia e H. Cisal sulle questioni che riguardano gli ASACOM, in particolar modo sugli enti locali, è stato un incontro molto produttivo. L'impegno è di collaborare e creare assieme un disegno di legge che possa analogamente, così come succede con la legge 24 nelle scuole superiori, dare opportunità agli enti locali di dare un servizio omogeneo. C'è molta disemogeneità, ci sono molte differenziazioni, bisogna creare una condizione tale per assicurare ai ragazzi un sostegno importante e professionale agli enti locali le opportunità per poter offrire questo sostegno che la legge prevede essere in capo ai comuni.